Non c'è nessun pericolo crollo per gli uffici giudiziari baresi di Via Nazareans, ma il palazzo ha bisogno di importanti invasivi lavori di adeguamento. In sintesi, quanto emerso nella riunione della conferenza permanente presso la Corte dell'Appello di Bari che si è riunita all'indomani dell'apertura di una nuova crepa nel pavimento di un'aula di udienza al piano terra del Palagiustizia di Via Nazareans che ha portato allo sgombero di alcune stanze. Nella riunione della conferenza permanente, cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti degli uffici giudiziari baresi, tecnici dell'INAIL, Comune di Bari e Ministero della Giustizia, si è deciso di avviare contemporaneamente la stima dei lavori da fare da parte dell'ente proprietario dell'immobile, l'INAIL, una nuova ricerca di mercato per individuare eventuali soluzioni per ospitare procure tribunale penale in attesa che si realizzi il polo unico della giustizia barese. Ci hanno rassicurato, detto il procuratore Giuseppe Volpe, riferendosi alle verifiche compiute sull'immobile, sull'idoneità della struttura ad ospitare senza rischi chi vi opera e vi accede. È stato escluso, categoricamente, un rischio crollo del palazzo. Volpe ha inoltre spiegato che non vi dovrebbe essere disponibilità per il trasferimento degli uffici giudiziari nella cittadella della Guardia di Finanza al quartiere San Paolo, in disponibilità che è stata confermata successivamente anche in una nota della stessa legione allievi della Guardia di Finanza che ha sede proprio nella cittadella. Fermo restando la volontà di un polo della giustizia, detto il presidente della Corte d'Appello, Gianfranco Castellaneta, dobbiamo provvedere a gestire la contingenza, soprattutto con riferimento al palazzo di Via Nazareans. Ci siamo in parte tranquillizzati perché problemi statici importanti non ne sono emersi. Resta un problema di adeguamento di quell'immobile.